Musica Venerdì mattina l'assessore regionale Antonella Parigi e la vicepresidente del Consiglio regionale Daniela Ruffino hanno fatto visita a Castellamonte per conoscere la realtà locale e le sue eccellenze. In questa occasione è stato riconfermato il contributo regionale alla mostra della ceramica. Che riconosciamo il valore promozionale di questo evento è il fatto che nonostante siamo in un bilancio di emergenza manteniamo il nostro contributo. Ecco poi chiedere di crescerlo mi sembra un po' troppo. Naturalmente bisognerà aspettare che il bilancio passi al Consiglio regionale. La Giunta e l'assessorato della cultura ha comunque deciso di costruire il proprio bilancio privilegiando le manifestazioni che promozionano territorio e eccellenze. Ecco questo è il caso in cui siamo, in cui continuiamo esattamente come prima nonostante il bilancio della cultura e del turismo abbia subito un gioioso ridimensionamento. L'alleanza non è solo per il contributo ma in realtà è un'alleanza di stare insieme per promozionare. Debba essere dato atto all'assessore di questo impegno enorme sui territori perché la provincia di Torino e del Piemonte e i comuni sono tantissimi e devo dire che c'è una grande attività e quindi riuscire a cogliere tutte queste particolarità e comunque sostenerle non soltanto economicamente ma con tutta un'altra serie di iniziative che ovviamente vengono in esse in atto. Non è poca cosa come non è poca cosa essere presenti sul territorio. Per me questi fatti che stanno avvenendo, l'assessore era nella mia valle sabato scorso per promuovere un progetto che anche in questo caso unisce i comuni è un gesto di grande attenzione. In genere gli amministratori locali si sentono soli. Il fatto che ci sia questa presenza è importante perché permette di poter guardare al futuro. Oggi la regione non ha il proprio bilancio ma neanche il comune di Castellamonte e neanche i comuni italiani hanno un bilancio perché di fatto non può ancora essere fatto perché non si sanno ancora quelli che sono i trasferimenti mentre c'è una certezza sull'elemento trainante per questa realtà che porta occupazione e che porta turismo. Quindi questo non è poco in situazioni come quelle che stiamo vivendo oggi. Grazie.